Salve utenti di Youtube Dovete andare qua e andate qua Ok Poi vabbè noi mettiamo il segno Poi vedete qua Bene Siamo qua alla seconda isola Sembra la seconda isola Ok Ora Adesso siamo qua con la sua Riki spiegaci in cosa consiste il mistero Adesso vi faremo vedere Voi dovete Va bene Senza ammazzare Poi vi aprono da solo Vedete voi parcheggiate qua Senza usare Cioè senza ammazzare Sì Senza usare armi Parcheggiate ora Ora dovete andare in questa porticina Perché qua ci sono Cioè un mistero E Un veicolo Che è l'anilator in cima E come sapete l'elicotter Allora adesso vi giri Secondo piano Guardate cosa c'è Ecco qua Sembra Non vi sembra qualcosa di familiare Guardate Ci ricorda molto GTA San Andrea Vi ricordate Se avete visto una nostra puntata Vecchio video Vecchio video Polizia violente Guardate Cioè non sappiamo se è polizia violente Perché si vedono Praticamente questi tre poliziotti Che No Cioè non è morto questo tizio Prova a mirarlo Lo vediamo se è morto No no non è morto Fidati Si reale Cioè se c'è Prova a mirarlo con qualcosa Riky E vedete Chiudi Cioè è vivo Sembra vivo Prova a mirarlo No se ci passate sopra Si rialza Moka il passo sopra Vai passo Ecco Visto? E poi niente Qua si rialza E comincia a camminare Vedete Ho un mistero molto strano Scovato da Riky Infatti Cioè non ho guardato nessun video Perché stavo qua E adesso Escono Il video Cioè non è un mistero Ecco avete visto Senza usare trucchi Qua c'è la Un nostro Perché Praticamente vi dico la storia Praticamente stavo andando col taxi Stavo cazzeggiando Visto perfetto Ma è già tanto male Tra l'altro Sì infatti Vabbè Stavo cazzeggiando Praticamente Ho fatto una sgommata Una mega sgommata col taxi Ho visto sto Unilater qua Mi sono incuriosito Ho cercato E tutti Cioè non capivo Da dove entrare Alla fine ho capito Che dovevo Sallire Aprire quella porta E poi ci ho trovato Anche Ragazzi abbiamo preso L'unilater Non per caso Infatti Adesso Siamo in un posto Dove Serve l'unilater Esatto Eccoci qua Nella 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 Seconda parte Adesso Siamo Alla stato della libertà Come conoscete Adesso voi sapete già Il mistero Noi vogliamo solo Farlo vedere Perché non lo sapesse Perché non lo sapesse Qua la stato della libertà No Guardate L'elicottero Usando l'elicottero Qualsiasi Noi abbiamo usato L'unilater Dovete andare Proprio all'ultimo Cioè All'ultimo Guardate Ricci inquadra la visuale Dall'alto Vedete Siamo proprio ai piedi Della statua della libertà Esatto E poi Avete visto Guardate un po' Cosa abbiamo Happiness Is E poi Facciamo trovare Dove Che è una maglietta Unica che poi Si può sbloccare Comunque Vi buttate Senza avere paura Di cadere Cercate di Entrare in questo terrazzo Buttandovi Dall'elicottero E voi Allora Qua Trovate Quattro porte Ecco In uno di quelle Se continuate a camminare Vi passate dentro O Y Se avete l'Xbox O triangolo Aspettate Se avete la Play 3 Se avete la Play 3 Ovviamente Ehm Aspetta Che ci mette triangolo No no Non è Y Sì sì Chiede No no Ah no Allora è dell'altra parte Scusate un attimo Ecco Scusate dopo un po' Poi con O X Se avete l'impressione C'entra Continuate Andare su E vedete qua Dopo un po' Eccolo lì Il cuore della statua Libertà Libertà Sta a simboleggiare Il cuore pulsante Di Liberty City Perché Questo è il simbolo Ora noi guardiamo Usiamo un cecchino Scusate C'è un po' Di poca Illuminazione Eh non si vede tanto Però Scusate Eccolo Lo vedete Ecco il cuore Vedete che è pompa Però Non succede niente Se lo sparate Ora Vedete Continua a pulsare Ora noi scendiamo E facciamo dovere Facciamo vedere Dove si trova la maglietta Ora la maglietta Dovete Scendere Vabbè Uscire ovviamente Dalle porte Scusate Un'impresa Trovare Qual è? Questo No L'ultimo Oh cavolo Ecco Eccolo Buttati Ora ci dobbiamo buttare Senza morire Senza morire Ripeto Senza morire Ripetiamo Senza morire Siamo morti Però vi abbiamo fatto vedere Almeno Dove è il cuore Adesso Siamo ritornati E abbiamo trovato Un altro mistero Guardate In questo Semplice taxi Abbiamo trovato VTF Che vuol dire What the fuck In inglese Letteralmente Che cazzo Cioè non so più Sul taxi No cioè Non si so Perché in solito Là si mettono le pubblicità A te lo fa online Love Poi tutti dei nomi Mi pare sia un buono Una radio Scrivetesi nei commenti Se sapete cos'è Ora noi vi risparmiamo La nuotatina E vi facciamo vedere Dove abbiamo trovato La maglietta Ecco ci siamo Abbiamo risparmiato La nuotatina La nuotatina E scusateci Che qua non c'è Però Vi assicuriamo 100% Ovviamente Se lo prendete Non vi comprerà Però Se non lo prenderete Troverete Scusate Comunque Trovate la Sì Delle specie Di Non so come dire Giornale È una maglietta Cartocciata Sì vedete Una cosa rossa qua Voi ci passate sopra Poi c'è il caricamento E Vi troverete Per vedere il segnale Dov'è Una maglietta E vi metterò Anche le immagini Guardatela Comunque si trova qua La maglietta è questa È bella la maglietta E comunque Per oggi è finita La puntata dei rec Ci ritroveremo Nella prossima puntata Arrivederci Ciao